Anche l'influenza 2021-2022, come già il Covid, si può prevenire in farmacia grazie all'accordo sottoscritto tra la Regione Abruzzo e Federpharma e Assofarm. Per quella che si annuncia come un'influenza piuttosto aggressiva, già da ottobre è disponibile la somministrazione del vaccino presso le strutture sanitarie o i medici di famiglia. Adesso a queste si aggiungono anche le farmacie territoriali abruzzesi che aderiranno all'accordo. L'assessore regionale alla salute Nicoletta Berì. Abbiamo firmato un accordo, un protocollo con le farmacie, in modo particolare con Federpharma e Assofarm, un protocollo che sarà recepito lunedì dalla Giunta, una vicinanza in modo particolare, una sanità di prossimità anche affinché tutti possano essere vaccinati. Questo vaccino entroinfluenzale, così come è stato deliberato, è relativo ai bambini dai sei mesi ai sei anni, dagli over 60 e ha delle fragilità e quindi a tutte le persone che hanno dei sintomi importanti. Resta ovviamente somministrazione gratuita anche nelle farmacie? Sì, è ugualmente gratuita e partirà nei prossimi giorni della prossima settimana. Quest'anno, diversamente dall'anno scorso, in cui forse oltre a proteggerci dal Covid, diciamo mascherine e distanziamento sono servite anche a proteggerci dall'influenza, quest'anno sembra che l'influenza si presenti in maniera piuttosto aggressiva. Quindi vaccino importante anche per semplificare poi la distinzione dei sintomi, immagini? Sì, è vero. La campagna vaccinale che noi abbiamo iniziato dall'11 ottobre ha proprio questa finalità, sia di prevenzione, e come abbiamo letto purtroppo quest'anno ha un'incidenza notevole, ma anche per far sì che ci possa essere una diagnosi differenziale importante. L'importante è portare avanti questa campagna di sensibilizzazione, in modo particolare anche per i bambini, che in questo momento sono quelli colpiti sia per la sindrome influenzale, ma anche purtroppo per il Covid. Negli ultimi giorni si registra anche un aumento di occupazione dei posti letto di terapia intensiva. Grazie a tutti.